e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in un nuovo episodio della serie di sims dei sims di sims freeplay scusate che scusate perché sono vestito così però ho finito di registrare il video che non vi dico il titolo e adesso andiamo a sims freeplay eccolo qua allora ragazzi grazie benvenuto eh ma io ho aggiornato aggiornamento in corso vabbè ragazzi finchè hanno aggiornato metto in pausa mi piace questo nome quadratura ditelo ok ragazzi chiaramente è stato completato e si è avviato il gioco adesso allora ci si mi hanno sentito mancanza alcun po' di regola ok bene bene allora l'ultima volta erano rimasti con spighetto spighetto questa è la webcam un po' troppo grande ok così va meglio e allora ragazzi vi avevo chiesto di scrivere il nome qua sotto oppure se non lo facevate questo ne avventavo io e diciamo che l'ho inventato e adesso andremo a creare un nuovo cucino per il nostro caro amico no 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 niente dispositivo mi va giù porca se cade ancora una volta e tu ammazzo la mamma ok questa vuoi vedere così sia vuoi costruire la casa ok ragazzi si chiamerà sì Kelly a me va bene allora dobbiamo fare un nome e che faceremo con alcun nome allora aspetta Gianna Franca perfetto Gianna Franca allora i capelli vediamo come posso farglieli no capelli no capelli voglio una biondina ci sta testa se così va bene occhi se la biondina quindi poi gli occhi azzurri e maglie facciamo uno stile un po sexy i pantaloni così fanno bene anzi no uno stile estivo quindi questa maglia qua va bene perché ok e poi i pantaloni corti si vanno bene questi e le scarpe sono infradite perché eccole tua e la nostra Gianna Franca ragazzi è pronta per arrivare nel nostro nuovo mondo vai Gianna Franca ok trasferisci in città hai risucchiato ogni ogni del giro dal tuo sentire di sull'aria con un bel trottino aspettare di sull'aria con un bel trottino aspettare di sull'aria con un bel trottino aspettare di sull'aria con un bel trottino attività di sull'aria con un bel trottino di sull'aria con un bel trottino Questo è un diamante Ti mostro già Sì, quello lo so Non so, non chiamo un sim Perfetto Selezionare sim giusto per il lavoro giusto e sensore per una sim vita felice Sì Tocca il sim senza sim Diamante sim Verde sim Sopra la testa sim Poi tocca il pulsante sim Di modifica sim Per selezionare Di stare il suo nome sim Va bene Perfetto I missis vogliono divertirsi Parlano Ma no, scoraggiate Scoraggiate, ok Cambio sim La prima impressione è importante Quindi fai conoscere questi due in fretta Più che la soluzione diventa imbarazzante Aiaiaiai E no A casa mia Ma che cazzo fai Sì 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 Siamo strani noi Sì 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 Sì